Mi chiamo Francesca Boccafoschi e sono professora associata nell'Università del Piemonte Orientale, sede di Novara. Il congresso mondiale di biomateriali sarà un evento molto importante perché permetterà ai giovani ricercatori di essere in contatto con i leader in questo campo, in tutti i campi della ricerca dei biomateriali e sarà quindi un'opportunità molto unica per loro e garantirà anche un'altissima qualità, a un altissimo livello delle presentazioni scientifiche, quindi davvero qualcosa di esclusivo. Quello che in questi due giorni abbiamo cercato di stabilire è un equilibrio fra tutti gli interessi in tutti gli ambiti della ricerca, quindi ci saranno diverse sessioni parallele che cercheranno di non escludere alcun argomento e che potranno essere interessanti sia per gli ricercatori più anziani, quindi più esperienti, sia per i più giovani che quindi verranno coinvolti anche in diverse iniziative. L'Italia è un paese piccolino, però quello che ci caratterizza è l'originalità, quindi nella ricerca in generale ma soprattutto in questo campo che è quello in cui opero, credo che gli italiani possano veramente dare un buon contributo e poi anche la simpatia. Portiamo un po' di allegria anche nel lavoro. Io suggerisco a tutti di venire a questo congresso per tanti motivi, vi aspettiamo a Montreal.